Nuovo tutorial su Squadbusters, andiamo a vedere oggi come avere tanti biglietti dei bauli gratis Perché proprio un tutorial di questo genere? Per il semplice fatto che i biglietti dei bauli sono un qualcosa di fondamentale per progredire all'interno del gioco Penso che un po' tutti siate rimasti a stecco e giustamente voi avete detto cosa faccio adesso su Squadbusters Oggi ve lo spiego Mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel pollicione all'insù Che molte volte la gente si dimentica di farlo Se qualcuno di voi volesse shoppare skin, superpass, offerte giornaliere, cose di questo genere Si ricordi per l'amor del cielo di inserire il codice IMVAPOR nel negozio Ringrazio tutti coloro che lo fanno E soprattutto se qualcuno di voi volesse diventare mio amico Sappia che qua sotto vi lascio il link di raccomandazione del sottoscritto Vi prendete delle ricompense voi, me le prendo anche io Insomma godiamo un po' tutti assieme C'è poi Cacciatore d'Italie, gli incantesimi Ho già fatto un tutorial su come funzionano gli incantesimi Su Squadbusters non sto giocando tanto Quindi chi mi sta chiedendo Vapor ma cosa stai facendo in sto periodo Sto giocando molto a Brawl Stars Infatti mi trovi tutti i giorni su Twitch e TikTok in live Ti consiglio di andarmi a seguire 3 biglietti su 3 dei bauli Andiamo a farci qualche partita E poi dato che ci mancherà un biglietto Vi spiego i vari metodi per ottenerli gratuitamente Ok? Perché è un po' difficile spiegarvelo semplicemente facendovi vedere quello che mi manca Vi faccio proprio vedere fisicamente cosa bisogna andare a fare Spoiler, c'entrano le monete Spoiler, c'entrano naturalmente anche i pass Cose di questo genere Insomma vedremo tutti i metodi che ci permettono di ottenere gratuitamente Questi fantastici biglietti dei bauli Che sono veramente molto 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 utili Comunque con la mia gallina ci prendiamo qualche ricompensina Giusto proprio Roba leggera, non pesante Però sapete che comunque i fantasmi royale Queste cose qui sono sempre pericolosi Quindi cerchiamo di perlomeno diversificare su questo frangente Bene il bocciatore, bene giù vai così Ok, monete, grazie, è stato un piacere Altra gallinetta perché va benissimo Smartegliamo quell'altro Facciamo su giù Ok, io adesso qua però dovrei scappare Perché non mi sembra il caso di lasciare lì la roba Oh là, perfetto Ho un po' un problema perché Sì, sicuramente ho tanto vantaggio rispetto agli altri Perché ho queste galline che posso scappare Però attenzione Che mi è rimasta poca vita Residua nei vari personaggi che Posseggo attualmente Nel matching Quindi prendiamo il mercante Che mi converte, ricordo, le monete In gemme Molto 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 utile Questo aspetto qua Bene la pam Che mi dà un po' di supporto anche dal punto di vista curativo E cerchiamo di espanderci nella parte sinistra della mappa Vedete come ci sono varie possibilità E tra le quali anche questa espansione nella parte sinistra Ricordo che la parte destra ormai è troppo lontana Non avrebbe senso in questo momento provare ad espandersi In quel campo lì Perché un'espansione eventuale nel campo seguente Porterebbe semplicemente alla dispersione delle ricompense da me già ottenute Comunque full schiaccing Il tasto dello stivale Non mi va di lasciarlo lì E di lasciare diciamo delle cose incompiute Benissimo Qualche ricompensina l'ho presa O ancora naturalmente Il tasto dello stivale da poter schiacciare Perché giustamente come avete visto all'inizio Ho ottenuto la possibilità di sbloccare molti Veramente tanti Diciamo bauli Ne ho portati veramente tanti a stack Quindi mi ero sbloccato anche tante galline Tanti stivalucci Bene così Attenzione al brother di qua Che c'ha un sacco di fantasmi royal Sarebbero da supportare sotto un determinato punto di vista Ho cercato di prenderne un po' anche io Ma io direi di dileguarmi E di non espanderci troppo Magari anche Risultando troppo aggressivi Perché se risultiamo troppo aggressivi E' un bel po' un disastro Bene così Prendiamo un po' di monetozze La bella nita Scoppiamo i due alberi E ci prendiamo l'intere ricompense Bene così Un po' di scheletrini Un po' di cose E vediamo di buttar giù il bocciatore Bravo vapor Ok Goblin grosso via Due goblincini via Benissimo Monete 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 Allora Proviamo a prendere questo 30 Ci prendiamo subito questo 30 Cerchiamo di espanderci E spostiamoci nella parte di nuovo Sinistra Vedete che comunque Sono in una quarta posizione Che a noi va più che bene Ricordo che l'obiettivo nostro E' quello di rimanere in top 5 Chiaramente ok Quindi sempre in top 5 L'obiettivo E' complicato raggiungerlo Sappiate che è molto molto complicato Raggiungere l'obiettivo della top 5 Ok Allora Selezioniamo la strega Benissimo Cerchiamo di continuare A mantenere questa terza posizione Che ci siamo acquistati Nonostante La terza posizione Sappiate che Qua non è semplice Poi mantenerla Perché Il problema è che poi Ti vai a scontrare Contro questi qui Che fanno una marea di danno Ho provato ad arrivare terzo All'ultimo Nonostante questo Penso di aver raggiunto La quarta posizione Tranquillamente Quindi la top 5 L'abbiamo portata a casa Di una gemma Niente top 4 Come vedete qua Possiamo trovare L'energia dei portali ottenuta In questo caso Abbiamo fatto un più 15 Abbiamo fatto un più 72 Di esperienza E un 4 per Delle stelline Dentro i bauli Non si possono trovare Questi biglietti Ok Quindi i biglietti Dei bauli Non sono reperibili All'interno Degli stessi Bauli Si possono invece Andare ad ottenere Questi biglietti Dei bauli Andando per esempio Andando ad utilizzare Le nostre monete Le monete sono Una valuta Che su questo gioco Ha veramente Ben poco valore In particolare L'unica vera utilità Della quale Io ho parlato Dall'inizio È questa Andare nella sezione Risorse E andarsi a comprare I rifornimenti In particolare Questa offerta qua È veramente vantaggiosa Con 5 Diciamo Con 10.000 monete Ci possiamo andare a comprare Ben 5 biglietti Dei bauli Ricordo che L'offerta di prima Era molto più vantaggiosa Perché c'era Quella da 3 bauli Quindi da 3 biglietti Dei bauli Che ci costava 6k Al posto di andare a spendere Per un biglietto Dei bauli 2005 Quindi c'era Un tasso di conversione Migliore Attualmente è stato Ridotto Ed è sempre E risulta essere Un'ottima spesa Per noi Quindi 10k monete Buona così Poi Chiavi Situazione chiavi Le chiavi Ne parleremo in un video Dettagliato Sappiate che comunque I biglietti Dei bauli Si possono ottenere Anche dalle sfide Del mistero di Tara Che praticamente Compaiono ogni giorno Sappiate che lì dentro Ci sono come ricompense Ogni tanto Anche questi biglietti Dei bauli Continuiamo Perché i biglietti Dei bauli Si possono andare ad ottenere Anche in altri metodi I biglietti Dei bauli Si possono andare ad ottenere Ad esempio Completando delle ricompense Quindi Salendo all'interno Del nostro pass Che ricordo essere A pagamento Che è quello Nella parte sottostante E gratuito Nella parte superiore Ci possiamo andare ad ottenere Per quello gratuito La bellezza di Se non erro Mi sembra Sui Cinque biglietti Dei bauli Per quanto riguarda Il pass a pagamento Oltre a questi cinque bauli Che ricordo sempre Ci possiamo andare a prendere Ce ne sono altri Otto in paglio Quindi in totale 13 biglietti Dei bauli Provenienti dal pass Delle gemme Nelle missioni settimanali Le ricompense Sono esclusivamente monete E ogni tanto Dei bauli Che possono essere Rari O epici A differenza Del livello In cui Abbiamo raggiunto Sappiate che poi Si possono andare ad ottenere Anche ogni tanto C'è qualche pop up Gratis Di biglietti Dei bauli Gratis Ma sono veramente rari Ultima Ma non per importanza Per ottenere i biglietti Dei bauli C'è anche il fantastico Cammino Dell'avventura L'avventura Ci dà bauli Ci dà monete Ci dà dei raddoppi E così Ogni tanto Dà anche dei biglietti Dei bauli L'avventura Della squadra Quindi mi raccomando Uscirà poi Anche un tutorial Sull'energia Dei portali Un bel pollicione Per questo video Tutorial Su come ottenere I biglietti Dei bauli Gratis Spero che vi sia Stato utile Noi ci vediamo domani All'ora e 14 Sempre qua Con un nuovo video Su youtube Clicca uno di questi due Che sono uno più bello Dell'altro Ciao bello Ciao bello